Esprimo tutto il nostro onore e la nostra felicità per la visita del Console Generale. In questa giornata abbiamo avuto modo di esporre e di far visitare la nostra struttura, la struttura di Ismet, e di dimostrare e di spiegare tutti i successi che sono raggiunti in vent'anni di questa innovativa collaborazione fra pubblico e privato internazionale. Abbiamo creato molti linguaggi, quindi dobbiamo dire ai sargenti come profondi sono di cut. Ismet è un chiaro esempio degli ottimi risultati che Sicilia e gli Stati Uniti possono raggiungere quando investiamo insieme con un partnership pubblico-privato. Anche il centro Rimet è una buona notizia per Sicilia e per i siciliani perché creerà i posti di lavoro di altamente qualificati.